Una giornata che ha una valenza storica, così ha commentato il sindaco Gian Guido d'Alberto, all'apertura dei lavori del Consiglio Comunale Congiunto tra Teramo e l'Aquila, svoltosi nella sala consigliare del Consiglio regionale d'Abruzzo. Tema dell'iniziativa, il delicato problema della riorganizzazione sanitaria. Raggiunto con successo l'obiettivo di arrivare all'approvazione di un documento congiunto tra le due amministrazioni comunali, guidate da Pierluigi Biondi, primo cittadino dell'Aquila di Fratelli d'Italia, e Gian Guido d'Alberto, sindaco terramano del PD. Così, evitando campanilismi e rivendicazioni territoriali di bandiera, i due comuni abruzzesi si sono alleati ufficialmente per chiedere modifiche al decreto Lorenzin al fine di realizzare due ospedali di secondo livello, uno a Teramo e uno all'Aquila. Nel suo intervento, il primo cittadino di Teramo ha dichiarato che la regione è sempre stata caratterizzata da divisioni e competizioni tra territori, ma il diritto alla salute, deve essere garantito in modo uguale. Dobbiamo interrompere in modo netto e radicale, sostiene il sindaco D'Alberto, la costruzione e la realizzazione di un abruzzo a due velocità, in cui l'area teatino-pescarese, con scelte del passato e oggi in continuità, va avanti in modo non sostenibile, penalizzando territori che hanno un'altissima dignità, anche e soprattutto in materia di sanità, e che vengono lasciati colpevolmente indietro. Va giù duro anche il sindaco Biondi, quando spiega che le eccellenze specialistiche sono riconoscibili e fondamentali per l'Abruzzo e che solo nell'ultimo anno si sono persi 80 milioni di euro in mobilità passiva. La maggiore mobilità attiva la si riscontra verso il Lazio, il che significa che il territorio abruzzese rappresenta una sorta di frontiera che può diventare un elemento attrattivo. Materamo ha anche un altro problema, tutto interno e politico, su dove ubicare il nuovo super ospedale. Nel 2017 il consiglio comunale si era espresso sull'area di Piano D'Accio. Oggi il sindaco d'Alberto, visto anche il dibattito che si è aperto in città, pensa di far rientrare in gioco altre zone, tra cui quella di Villa Mosca, dove insiste ora il vecchio ospedale Mazzini. In conclusione, stando alle richieste dei comuni, è probabile che l'assessore regionale Nicoletta Verì si presenti al tavolo di monitoraggio Stato-Regioni con la richiesta di quattro super ospedali per l'Abruzzo. Per qualcuno sembra impossibile ottenerli, ma le oggettive difficoltà di collegamento che presenta il territorio abruzzese li rende necessari.